E si è dato ad intendere che il pericolo nell'avvicinarsi ad Antonia potrebbe spingersi fino a me, mi hanno scritto, gli amici di Antonia hanno cinto d'assedio, convinti che il ricordo di un vecchio legame, la fede cieca in virtù di fatto simulate, potesse rendurmi a mitigare il mio zero e la mia passione per la libertà. Marco, qui dentro cosa c'è? Dai, dai, siamo di pelle spessa, abbiamo sensi grezzi, conoscerci bene, dovremo spaccarci la carota cranica e tirarci fuori a forza, io a te, tu a me, i pensieri dalle fibre cerebrali. Che intenzioni ha con quelle vita? No, 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 no. Grazie a tutti! Grazie a tutti.